Ho ereditato un cottage. Cosa? E dove? A St. Mary, sul mare. Paesaggi incantati. Storie che appassionano e fanno sognare. Tutte le sfumature dell'amore firmate Rosamond Pilcher. Ci abitava una vedova con sua figlia all'epoca. Ogni tanto badavo alla piccola. Quella piccola a cui badava, penso, di essere io. Va dove ti porta il cuore. Venerdì, in prima serata, sulla 5.